un consiglio tu sei vicino a me per un consiglio e non vorrei sbagliare tu ma sei figlio ma vederò c'è tanta complicata e come una matassa incarbugliata e non è così niente a trovare a strada giusta che nessuno sape perché solamente ipocrisia si tracesse che sia giusta via non c'è niente meglio l'istruzione specie quando si studia con passione ma quando ha diplomato e laureato che stanno ancora spesso e mezza strada o vizze carte della piena trama se non d'arranza e voglia soffre la fama e per farne il caro piano piano aspira pure a stacca scopa a mano se invece tu ti impara un mestiere portacampato a casa tutte le sere però adesso scopo la coscienza di non aver agito con sapienza perciò figlio mio bel lieto consiglio e studiare con fete e con puntiglia per diventare una grande letterata un professore oppure un avvocato la mietta da cagare per cominciare io stesso tempo quando saranno tempo triste e nero